Cari amici buon pomeriggio, veniamo a questo punto a dare qualche anteprima della puntata di questa notte, della notte tra oggi e domani di Monday Night Raw che sarà davvero una puntata speciale denominata per l'occasione WWE Monday Night Raw Legends Night come appunto dice già la parola saranno presenti tantissime leggende tra cui Hulk Hogan, Ric Flair, The Big Show, Beth Phoenix, Ivy Torres e tante altre poi per quanto riguarda le varie storyline ovviamente sarà portato avanti la faida strabiliante e straordinaria tra The Fiend Bray Wyatt e Alexa Bliss nei confronti di Randy Orton ovviamente non c'è da dimenticare la sfida titolata di Drew McIntyre un due volte campione WWE nel 2020 contro Kate Lee colui che sette giorni fa battendo Shimos in un one on one number one contender match si è appunto aggiudicato l'opportunità di affrontare questa sera a Raw il campione scozzese lo Shosen One ciao a tutti